La famiglia di Gesù, esempio per la famiglia di oggi e del domani. Il grande dipinto collocato in Sala Stampa Vaticana è l'emblema del prossimo incontro mondiale delle famiglie in programma a Filadelfia negli Stati Uniti dal 22 al 27 settembre 2015 che avrà come tema l'amore e la nostra missione la famiglia è viva. Un dipinto ha detto l'arcivescovo di Filadelfia Monsignora Joseph Chaput che è un promemoria per la famiglia cristiana e che comprende non solo genitori e figli ma anche i nonni. È intenso il cammino che la chiesa americana sta percorrendo per arrivare all'incontro del prossimo anno con speciali catechesi scanditi da dieci passi che prendono in esame ad esempio la famiglia cristiana come il rifugio per il cuore ferito. Il ruolo della chiesa è la testimonianza missionaria di famiglie cristiane al mondo esterno. Tutti ovviamente sperano che a Filadelfia possa andare anche il Papa. Speriamo fortemente che il Santo Padre venga da noi. L'evento dell'anno prossimo diventa più reale con il passare di ogni ora. Filadelfia ha profonde radici religiose e Papa Francesco è molto amato sia all'interno sia all'esterno della Chiesa Cattolica degli Stati Uniti. Quindi come ho già detto in un'altra occasione sono previsti tra i 10.000 e 15.000 partecipanti da tutto il mondo al congresso sulla famiglia. Una messa celebrata dal Papa potrebbe facilmente richiamare oltre un milione di persone. Filadelfia è una città in crescita vivace ha affermato Thomas Ridley che insieme alla sua famiglia ha portato il saluto della comunità cristiana della metropoli statunitense. Importante la testimonianza anche di sua moglie Barbara. 20 anni fa mi sono convertita al Cattolicesimo. Sono stata attratta dalla sua attenzione alle donne, alle madri e alla famiglia. Per me il Cattolicesimo è l'incarnazione della gentilezza, dell'amore, della compassione, della dignità, della santità e della serenità. Infine Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, ha illustrato le tante iniziative del Dicastaro Vaticano in vista del prossimo Sinodo della Famiglia in programma ottobre, ulteriore tappa del cammino che porterà poi all'incontro di Filadelfia. Nella settimana che precede la celebrazione finale, circa 15-20 mila partecipanti per una settimana abiteranno un centro di congresso enorme dove si svolgeranno tavole rotonde sui vari temi e vari problemi della famiglia coinvolgendo, e questa è una nota particolarmente importante, coinvolgendo anche le altre confessioni cristiane e anche le altre religioni delle diverse denominazioni, oltre che ovviamente anche umanisti, cultori della dimensione umana della famiglia, consapevoli che non stiamo trattando una questione ovviamente intra ecclesiastica, ma che riguarda l'intera società.